Musica Buonasera e benchia tazza a Novis. Risultati straordinari per l'Italia e tal'inseguimento a squadri maschili di bicicletti su piste. La squadra del Buies Jonathan Milan ha vinto in rimonte la medalla olimpica e ha marcat anche un new record dal monte da queste discipline. Palfriule ha la prima medalla di Auro conquistata in queste olimpiadi dopo l'isdoss di bronzo di Mirko Zanni dal sollevamento dai pes e di Mara Navaria dalla gara squadris di spade. Grande fiesta e commozione a Buie. La squadra dei familiari di Jonathan, gli amici e tutti che lo conoscono insieme con il sindicato è stata a chiedere la gara davanti a un maxi schermo. Contentò il primo cittadino di Buie Stefano Bergania. Ascoltin c'è che non sa di di. Non sapevano niente di tante vittorie bellissime. Una vittoria non per Buie ma per Friul, per Furlanche che sono tal mondo e non schiali. Che ci preparai per quanto torneranno? Una bella fiesta. Forse vengono le fieste in mondo di Buie, le fieste dal Toro. E lui ormai lo chiamano il Toro di Buie quindi puoi dire così. Facerei una bellissima fiesta. Emozionate? Beh, una roba che non è mai succeduta a Buie, una medalla olimpica, quindi d'oro. Poi dico sì. Visite in regione UE dal ministri, dal sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, accompagnata dal presidente Fedriga e dall'assessor Rosolene. Prime tappe, il GNUF, la minadora BS a Chiarnia. Giorgetti ha la fatto nelle lunghe chiaccarade cui sono restanze di Daniele ABS per Prince, Gianpietro Benedetti e Anna Mareschi Danieli, che dopo l'ho ammenata, vi ho di dentro il GNUF in plant. Ho essi in tutta la braure di cui che l'ha portata in denante, come i pioniers, un processo di cambiamento, bon di anticipare gli argomenti dal PNR alla di Giorgetti, che poco dopo ha l'elate in visita all'area Science Park a Trieste. Accressi in infettazione e anche i ricoverati di Covid, tra i ospedali dalla regione, dove su 5.580 voti in PONS FATS, e sono saltati fuor 133 GNUFs case. Per ciò che riguarda i test molecolari, la percentuale dei positivi serve al 2,78%. Arresti in quattro, le persone ricoverate in terapia intensiva, intanto che aumentino a 21, i malati ricoverano di altri reparti, dove non si registra nessuna morte. La polizia della questura di Pordenon è asserata in maniera definitiva il cerchio sulla bande transnazionale specializzata dall'assalto con la ruspe ai distributori di carburante, che l'unvier passante aveva fatto il fisco in Friul, Vignese e Iuglie e altre regioni. Tanti si scolunuti dai self-service e portati via con i bex dentro e consistenti dammi fatti agli spompi di benzina. La vicenda si asserata con la procedura di estradizione dalla Romania e dai quattro componenti dal gruppo criminale. E di Sarajevo a Pordenon, tre migranze, sostazze, chiatze, platze, in un container. All'è succeduta la dogane dall'interpoarte di Pordenon. A segnalare la situazione, alla sale operativa della questura, all'estate un camionista bosniac che, una volta arrivata la dogane, aveva sentito rumori e vigni dentro dal container dal suo camion. E sono anche mo' in Brois, in Friul, un turist in vacanze a Lignan Pinede, all'estate irate d'ongie di un'effemmine che, fasint fente di cognosilo di Cettante, gli rivade ad ore di portare via il Rolex di Aure che aveva e tal braccio dal valore di miarse di Euros. Un turist forest che si era fermato in una stazione di sosta di lungo la statale 3 di Spontebane, a Chiassà, all'estate investite, tirando un'edito di persone che, con la scusa di domandare informazioni, gli hanno portato via un borsone con 6.000 euro. I carabinieri sono da ora a investigare. L'implant sportivo dal Dan di Padier a Udine al sarà riqualificato e al diventerà il pont di riferimento dai campions di atletiche. All'è conventato un investimento di 645.000 euro e al sarà fatto in 6 mesi. Sintin c'è che non sa di di, il sindic di Udine, Pietro Fontanini. Cominceranno i lavori per rifare gli spistis di atletiche e anche di queste altre discipline sportive. All'interno della sei un implante, un'evole importante per fare un'internazionale e magari ospitare il nuovo campione olimpionico delle corse dai 100 metri che speriamo di poterlo vedere a Udine appena finissi la corsa. Le spese sono di più di 650.000 euro e quindi torniamo a mettere in vore un implante all'altezza della tradizione anche degli atleti che Udine è esprimute, sono ridotte dal salto in alto. Un bel lavoro crote per migliorare un implante sportivo e storico delle città di Udine. Per i 70 anni di fondazione della cantina Erauscedo all'estate presentato in maniera ufficiale il percorso che al portare a trasformare e a rilanciare le aziende attaccate dal logo. Non si è al conto il sindic di San Zorz della Ricchinvelda Michele Leon, che è responsabile marketing di cantina Erauscedo. Voi quattro di avoste vengono festeggiati i 70 anni della cantina di Erauscedo presentando un nuovo logo che ho detto su chi è in banda. È formato da un club e da una foglia di vita in maniera stilizzata che vuole incontrare l'unione dei nostri territori in una cooperativa come la cantina e questo nuovo logo vuole dare nuova prospettiva e nuovi progetti alla vita della cantina di Erauscedo. Quindi ci auguriamo che il futuro sia un futuro Biele che i nostri sviluppi diventino gli ambasciatori della cera furlana. All'edutto per Usnota appuntamento a domande di sere ad oggi, mandi. All'edutto per Usnota All'edutto per Usnota All'edutto per Usnota